Quali sono le principali problematiche della filiera culturale di Foggia e cosa mette in campo il centrodestra per contrastarle? Innanzitutto oggi siamo qui per ascoltare la filiera culturale e quindi per essere comunque attenti alle esigenze di tutti gli operatori del settore cultura, un settore molto importante per questa città che trova anche ampio spazio nel programma del centrodestra. Immaginiamo per esempio che Foggia possa essere presto la capitale mondiale giordaniana per prendere un simbolo della nostra città Umberto Giordano e valorizzarlo dal punto da far diventare Foggia la capitale permanente di eventi che possano ruotare attorno alla figura storica di Umberto Giordano.